e noi andiamo signori e signori con la categoria G3, siamo nella semifinale abbiamo il tiglio mix Libertas, Nicola Samanganotti alla comanda il tiglio mix Verona poi a seguire Eleonardo Vesi abbiamo il numero 110 al terzo posto con Lorenzo Francesco Prezio e il tiglio mix Trasso quindi anche in quarta posizione signori e signori la situazione in questa semifinale vede il tiglio Nicola Samanganotti alla comanda abbiamo poi il numero 110 Lorenzo Francesco Prezio e per il quarto posto c'è Cesare Tavirmini del tiglio mixigaro a Trentino che aguanta il quarto posto e la finale della categoria G3